Ciao a tutti, io sono Salvatore, ho 34 anni e sono un cliente di Gabriele e come altri sono qui per portare la mia testimonianza. Io ho conosciuto Gabriele in un periodo storico di rallentamento, venivo da una fase, chiamiamola di stallo, un po' a causa del periodo storico in cui abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo, che non ci ha permesso di accedere ai nostri luoghi di allenamento con la stessa frequenza di prima, un po' a causa e grazie al mio lavoro che mi ha sottoposto a stimoli fisici differenti in periodi diversi. Sono entrato in questa fase di rallentamento, ho conosciuto Gabriele e sono entrato nel programma Summer Body, che è un programma di 12 settimane e avevo un obiettivo preciso e l'ho raggiunto in un tempo relativamente breve e il risultato è stato talmente efficace che ho deciso di continuare ad allenarmi con lui attraverso un programma di personal coaching che stiamo portando avanti tuttora. Gabriele ha la capacità di essere chiaro, limpidissimo, sempre presente, sempre presente e pronto a modificare i programmi di allenamenti, il piano alimentare in base alle proprie esigenze, in base al periodo storico, in base ai tempi, alla disponibilità degli attrezzi che uno ha a casa. Sempre in ascolto, capisce bene qual è l'obiettivo personale e ti aiuta a raggiungerlo in maniera del tutto efficace. E questo è fondamentale, l'ascolto, l'ascolto reale di una persona che a volte non è soltanto quello legato all'allenamento, ma è anche quello che si nasconde dietro un aspetto umano, per me è fondamentale. Capire la persona che è di fronte e capire che l'obiettivo non ha soltanto un fine estetico o fisico, ma anche c'è qualcosa di più personale dietro, è fondamentale. E su questo si costruisce l'allenamento che è assolutamente efficace. Io sono passato da allenamenti in multifrequenza che conoscevo anche abbastanza bene perché li ho fatti per diversi anni, magari non con queste tecniche, ecco ci sono delle tecniche specifiche molto interessanti che mi hanno veramente modificato anche il punto di vista di alcuni esercizi, della meccanica, di alcuni movimenti, ad allenamenti adesso diversi e sono allenamenti sostenibili. Sostenibili in termini di tempo, in termini di materiale, in termini di spazio. Anche il piano alimentare è assolutamente sostenibile. Non ci troviamo di fronte a quelle situazioni in cui uno si deve stressare perché deve cucinare, deve preparare una serie di pasti calcolando qualsiasi cosa. No, io mangio, mangio normalmente e certo seguendo uno schema ogni tanto uno sgarra, ma la costanza nel seguire il piano alimentare e il piano di allenamento ti porta ad ottenere dei risultati assolutamente evidenti e naturali. Ed è quello che consiglio a tutti. È stata una delle scelte migliori che ho fatto negli ultimi tempi. Mi riferisco a scelte di natura personali, di quelle del tipo regali che uno fa a se stesso. Ecco, io mi sono fatto uno dei regali più belli negli ultimi tempi e quindi sento di consigliarlo a tutti e di ringraziare per questo Gabriele. Grazie.